Torino-Inter termina con un paio di gioco, precisamente, 1-1 a 1, per il Torino c'è questa per attività il Toro gioco in casa e non riesce a vincerla, come anche non riesce a vincerla l'Inter, la segna per il Toro è stato Bremer, Jason Bremer, al dodicesimo del primo tempo, la risposta è arrivata da parte dell'Inter nella parte finale, al novantatresimo della ripresa, a firma di Alexis Sachels, il quale la butta dentro. Il risultato è questo, un pareggio, un mero pareggio, poteva vincere, diciamo così, il Torino, che secondo me ha giocato meglio il Toro rispetto al l'Inter, ma la vittoria non è nè l'una nè l'altra. Nuno di fatto dunque, questo è il risultato finale della partita in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, cari clienti di YouTube, iscrivetevi, commentate ed apprezzate comunque l'impegno, e del Toro e dell'Inter, nella partita che di per sé, secondo me, era difficile da gestire e da giocare. Iscrivetevi al mio canale di nuovo, ripeto di nuovo, commentate, ciao a tutti da Reandro, narrato italiano.